Buonasera a tutti, un saluto ai frati e a voi che siete a San Giovanni Rotondo, un saluto anche a chi ci sta seguendo in televisione o tramite social su Padre Pio TV. È bello ritrovarsi ogni tanto e fare un po' di chiacchiere insieme. Io mi presento, sono Davide, ho 24 anni, studio architettura presso il Politecnico di Bari e lavoro in uno studio di architettura. Faccio parte della gioventù francescana di Bari Santa Fara da quando avevo 14 anni. Il fioretto che volevo proporvi oggi è un fioretto che potrebbe essermi utile per ogni giorno. Io essendo uno studente passo la maggior parte del mio tempo per l'appunto a preparare gli esami e a studiare, ma essendo una persona molto distratta mi sono reso conto che riuscivo a stare seduto alla sedia concentrato per mezz'ora, 45 minuti, poi sento l'esigenza di distrarmi e la maggior parte delle volte la fonte primaria di distrazione per me è il cellulare. Magari lo apro, vado sui social, rispondo a qualche messaggio su whatsapp e perdo molto tempo, rimettendomi poi a studiare molto tempo dopo. Il proposito quindi che vorrei fare, il fioretto, è per l'appunto quello di studiare in una stanza al quale interno non ci sia il telefono. Questo mi permetterà di studiare in maniera più concentrata, magari riesco a disintossicarmi un po' anche dall'utilizzo del telefono. Credo che sia una cosa che potrebbe anche aiutarmi da un punto di vista di studio, magari riesco a preparare con più velocità e più facilità gli esami. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata.